Torniamo a parlare di strutture sportive, se ne è parlato negli ultimi giorni, gli interventi che dovranno essere fatti al palaestra Mario Dagata e poi siamo qui a San Laurentino, al storico palazzetto di San Laurentino, perché anche qui la situazione è piuttosto intricata. L'assessore Tanti ha parlato di rischio chiusura, c'è tutta una vicenda da risolvere con il De Magno e però anche il fatto che alcune attività sportive necessariamente dovranno trasferirsi. Ne parliamo con Piego Ferruzzi, che oltre ad essere presidente del Panatron, è certamente parte attiva per quanto riguarda anche la società Petrarca, storica società. E tra l'altro partiamo da questo, perché tutti questi problemi delle strutture, come primo problema o primo danno per la città di Arezzo, che c'avevate un evento abbastanza grosso, no? Sì, non solo noi avevamo un evento, ma noi utilizziamo il palazzetto di San Laurentino anche per le nostre attività e quindi abbiamo subito un danno notevole e stiamo subendo un danno notevole. L'evento era un evento da fare alle caselle, ma purtroppo il maltempo ci ha condizionato, quindi per quell'evento cerchiamo altre soluzioni e nel caso specifico andremo ad effettuarlo. È una prova di campionato di Serie A1 e A2 che noi organizziamo e che verrà spostata nella palestra di San Sepolcro, quindi non ci sono, ma questo è un fatto contingente purtroppo, colpa di nessuno, colpa del tempo. Quindi comunque è un bel indotto di atleti che sarebbero dovuti venire qui in città? Assolutamente sì, è una prova che porta tanta gente in città e riempie gli alberghi perché ci sono atleti provenienti da tutta Italia con le famiglie, quindi è una cosa di grande importanza, ma purtroppo il tempo non è stato clemente, non ci è stato favorevole. Con le caselle inagibili, perché per quanto il Comune stia facendo uno sforzo, credo pesantissimo per rendere agibili le caselle al più presto, però io non credo che per ottobre le caselle siano agibili. Quindi ci troviamo con le caselle inagibili, questo palazzetto che non sarà usufruibile, e quindi vediamo un po' quello che succederà. Speriamo che riusciamo a trovare qualche palestra o qualche posto, se no saremo costretti a ridurre le nostre attività. Noi abbiamo più di 400 bambini che fanno attività con noi, quindi vediamo un po', si riduce.